Perchè sono in manette? Sono l'agente speciale Ellen Thompson dell'FBI. Può dirmi il suo nome e per chi lavora? Mi chiamo Mike Benning, servizi segreti. Dove siamo? Perché mi avete ammanettato? Siamo al St. Matthew's Hospital. Sa come è arrivato qui? Mi dica che cazzo sta succedendo. L'ultima cosa che ricorda? Mike, è importante che mi dica l'ultima cosa che ricorda. Marv. Il Presidente. Dov'è il Presidente? Dov'è? Sta bene? Il Presidente è in coma e i suoi uomini sono morti. Tranne lei mi dice com'è possibile che è successo al lago. Devo vedere il Presidente. Fatemelo vedere subito.